La situazione cartesiana dell'iperbole. Per definizione l'iperbole è il luogo geometrico dei punti del piano e quindi tali che è costante la differenza delle loro distanze da due punti prefissati chiamati fuochi. Cominciamo a considerare il caso dell'iperbole che ha i fuochi giacenti sull'asse X. Prendiamo i fuochi simmetrici rispetto all'origine quindi di coordinate meno C0 C0 dove c'è un numero reale strettamente positivo. Se P è il generico punto del piano, quindi coordinate XY, appartiene all'iperbole se e solo se è soddisfatta l'equazione valore assoluto di PF1 meno PF2 uguale a 2A. Dobbiamo mettere il valore assoluto perché non sappiamo se la differenza delle due distanze è positiva o negativa. dopodiché sostituendo le espressioni che danno le due distanze si ottiene l'equazione che segue, si eleva tutto al quadrato e ricordo che il quadrato del valore assoluto di una differenza è uguale al quadrato della differenza. Quindi valore assoluto se ne va. Poi quelli che seguono sono semplicemente passaggi algebrici, l'equazione chiaramente è irrazionale. Dopo il primo elevamento al quadrato al quadrato si ottiene un'equazione equivalente con un solo radicale, la si riduce ai minimi termini, si isola il radicale, si prosegue col calcolo e alla fine si perviene all'equazione parentesi tonda C al quadrato meno A al quadrato chiusa la tonda X al quadrato meno A al quadrato Y al quadrato uguale A al quadrato che moltiplica tonda meno A al quadrato più C al quadrato chiusa tonda. Si pone C al quadrato meno A al quadrato uguale a B al quadrato e chiaramente qua C è maggiore di A e si ottiene poi con questa sostituzione l'equazione che segue che dividendola per A al quadrato B al quadrato fornisce al termine di tutti questi calcoli l'equazione cartesiana dell'iperbole X al quadrato fratto A al quadrato meno Y al quadrato fratto B al quadrato uguale a 1. Allora analizzando questa equazione vediamo che è simmetrica rispetto all'asse X, è simmetrica anche rispetto all'origine e scusate l'asse Y e di conseguenza lo è anche rispetto all'origine. Cerchiamo le eventuali intersezioni con gli assi cartesiani. Allora ponendo X uguale a 0 si ottiene Y al quadrato uguale a meno B al quadrato che è impossibile, quindi non c'è intersezione con l'asse Y. Ponendo invece Y uguale a 0 si ottiene X uguale più o meno A. Quindi con l'asse X ci sono due punti di intersezione che sono chiamati vertici di coordinate meno A0 e A0. Il segmento che congiunge questi due punti e che ha chiaramente misura 2A viene chiamato asse trasverso, così come viene chiamato asse trasverso, l'asse X cui appartiene il segmento V1, V2. Adesso per mettere in luce alcune proprietà dell'iperbole riscriviamo l'equazione nella maniera che vedete, facendo il denominatore comune, B al quadrato X al quadrato uguale A al quadrato Y al quadrato più A al quadrato B al quadrato. raccogliamo A secondo membro B al quadrato dopo aver isolato primo membro A al quadrato Y al quadrato e si ottiene quello che vedete. Ora il primo membro A al quadrato Y al quadrato non è mai negativo e allora perché l'uguaglianza sia soddisfatta deve essere non negativo anche il secondo membro. Quindi essendo B al quadrato non negativo, anzi strettamente positivo perché B è diverso da 0, ne consegue che deve essere X al quadrato meno A al quadrato maggiore uguale di 0 e questa disequazione è soddisfatta per X meno uguale a meno A oppure per X maggiore uguale di A. quindi vuol dire che il grafico dell'iperbole si deve svolgere nei due semipiani delimitati dalle due rette X uguale a meno A quindi a sinistra di questa retta e X uguale ad A a destra di questa retta. poi ricavando dall'equazione scritta prima Y al quadrato da prima e poi Y si ottiene Y uguale più o meno B fratto A per la radice quadrata di X al quadrato meno A al quadrato. Raccogliendo sotto radice X al quadrato portandolo fuori si ottiene il passaggio che segue. Bene immaginiamo adesso che X assuma valori sempre più grandi e questo fatto è indicato con la freccia X freccia infinito vuol dire X diverge all'infinito. Beh allora ne consegue che il radicando 1 meno A al quadrato X al quadrato diventa un numero sempre più prossimo a 1 per difetto e quindi moltiplicando per un numero prossimo a 1 più o meno B fratto A per X il risultato è circa uguale a più o meno B fratto A per X. Vuol dire allora che il grafico dell'iperbole per X che diverge all'infinito positivo o negativo può essere approssimato a quello delle due rette di equazione Y uguale meno B fratto A per X e Y uguale B fratto A per X che sono due rette simmetriche rispetto all'asse Y. Queste rette vengono chiamate asintoti dell'iperbole nel caso particolare in cui B è uguale ad A l'iperbole prende il nome di iperbole equilatera e i due asintoti coincidono con le bisettrici dei due quadranti allora raccogliendo tutte le informazioni che abbiamo fin qui dato possiamo disegnare il grafico dell'iperbole che è quello che vedete ovviamente le inclinazioni delle due rette e i due asintoti variano a seconda dei valori di A e di B quindi si definisce centricità dell'iperbole il rapporto tra 2C che è la distanza focale e 2A che è l'asse trasverso semplificando C fratto A sostituendo alla fine viene 1 più B fratto A al quadrato il tutto sotto radice e dato che B non è mai uguale a 0 anzi è sempre strettamente positivo dalla formula scritta si deduce che l'eccentricità di un'iperbole è un numero reale strettamente maggiore di 1 consideriamo adesso l'iperbole che ha i fuochi sull'asse Y allora la procedura è analoga prima questa volta la differenza delle distanze viene indicata per convenzione con 2B anziché con 2A non è il caso di stare a parlare troppo dei calcoli che sono analoghi a prima guardate il partito qua il un attimo che mi esco qua un attimo che mi esco qua ok questi sono i calcoli ecco qua a un certo punto problemi non riesco più a controllare perché va bene allora riprendiamo da qua calcoli sono analoghi a prima ripeto questa volta a un certo punto vedete si pone C2 meno B2 uguale a 2 e chiaramente C deve essere E maggiore di B perché il secondo membro è positivo al quadrato e l'equazione cartesiana è meno X al quadrato fratto A al quadrato più Y al quadrato fratto B al quadrato uguale a 1 differenza differenza rispetto al caso precedente è che sono cambiati i segni del termine con X al quadrato e di quello con Y al quadrato anche questa equazione risulta anche questa equazione risulta simmetrica sia rispetto rispetto all'asse X che rispetto all'asse Y e di conseguenza anche rispetto all'origine cerchiamo le intersezioni con gli assi cartesiani quindi non so cosa succede stamattina sto cavolo di allora se X è uguale a 0 otteniamo Y uguale più o meno B quindi abbiamo due punti di intersezione con l'asse Y mentre ponendo Y uguale a 0 non troviamo punti di intersezione con l'asse X i due punti V1 e V2 sono detti anche in questo caso i vertici il segmento che li unisce V1 e V2 che misura 2B chiaramente viene chiamato asse trasverso così come l'asse Y su cui giace questo segmento poi procedendo come prima si conclude che il grafico dell'iperbole si deve svolgere nei due semipiani di equazioni Y minore uguale meno B oppure Y maggiore uguale di B poi raccogliendo a fattore comune B al quadrato fratto A al quadrato e ricavando poi Y si perviene all'equazione che vedete da cui si deduce che per X che diverge all'infinito la funzione si comporta come le due rette di equazione Y uguale meno B fratto A per X Y uguale B fratto A per X che prendono il nome di asintoti se B è uguale ad A l'iperbole anche in questo caso si dice equilatera e gli asintoti sono le due bisettrici degli assi cartesiani il grafico è quello che vedete infine definiamo eccentricità il solito rapporto e chiaramente anche in questo caso l'eccentricità è un numero reale strettamente maggiore di 1 e il video è finito di partito di partito di partito qui